Nella Manhattan degli anni Ottanta, Dog vive da solo, mentre guarda la TV, nota la pubblicità di un robot da compagnia e chiama subito per ordinarlo. Qualche tempo dopo Dog lo riceve per posta e lo assembla. I due diventano subito amici e Dog porta Robot a esplorare Manhattan. Si dirigono a Central Park dove si dedicano a una serie di attività, in particolare a pattinare sulle note di September degli Earth, Wind & Fire. I due diventano amici inseparabili. Verso la fine dell'estate, Dog porta Robot in spiaggia. Dopo una lunga giornata di giochi in acqua, i due si addormentano sulla spiaggia. Al risveglio, dopo che tutti gli altri bagnanti se ne sono andati, i due si rendono conto che l'acqua ha fatto rompere Robot. Non riuscendo a spostarlo, Dog, scoraggiato, è costretto a tornare a casa per la notte da solo. Il giorno seguente Dog torna alla spiaggia e scopre che è stata chiusa fino al primo giugno dell'anno successivo e che è stato eretto un grande recinto con filo spinato che gli impedisce di raggiungere Robot. Dopo che la città gli ha negato l'accesso alla spiaggia, Dog cerca di superare illegalmente la recinzione. Tuttavia viene catturato dalla polizia e arrestato. In seguito, scoraggiato, si rassegna ad aspettare il primo giugno per tornare a salvare Robot, apponendo un biglietto sul frigorifero come promemoria costante. Qualche tempo dopo, un trio di conigli si imbatte in Robot sulla spiaggia. Gli danno una bevanda che lo guarisce e gli permette di lasciare quel posto. Torna all'appartamento di Dog, ma si scopre che si trattava solo di una fantasia di Robot. In realtà i conigli gli tagliano una gamba e gli tolgono un dito del piede per riparare la loro barca rotta. Gettano via la gamba e lasciano Robot ancora una volta da solo sulla spiaggia. Nel frattempo, Dog trascorre Halloween da solo. Arriva l'inverno e la neve inizia a cadere sulla città e sulla spiaggia. Dopo aver sognato di fuggire dalla neve e di tornare a casa per trovare Dog che lo ha sostituito con un nuovo amico, Robot si congela nel ghiaccio. Nel frattempo, Dog va a Catskills per incontrare nuovi amici dopo aver visto un annuncio sul giornale. Questo lo porta a rompersi un braccio in un incidente con lo slittino dopo un contrasto con una coppia di formichieri. Mentre l'inverno continua, Robot sogna di tornare a casa attraverso un mondo ispirato al mago di Oz. Dog incontra un magico pupazzo di neve che lo conduce in una pista da bowling. Qui gioca male a bowling ma trova un nuovo amico nel pupazzo di neve. Solo che questo si rivela un sogno. Alla fine dell'inverno, Robot fa amicizia con un uccello che costruisce un nido accanto al suo braccio. L'uccello depone tre uova che si schiudono. Il più piccolo lega immediatamente con Robot. I tre pulcini crescono e il più piccolo rimane comunque il più attaccato al Robot. Quando arriva il momento di andarsene, il più piccolo è il più titubante a lasciare Robot, ma alla fine cede e segue la sua famiglia dopo l'incoraggiamento di Robot. Dog, nel frattempo, trova un nuovo amico in Duck durante una scampagnata con gli aquiloni e i due vanno a pescare qualche tempo dopo. Duck si trasferisce improvvisamente in Europa, lasciando Dog ancora una volta da solo. Una scimmia si intrufola sulla spiaggia e scopre Robot sepolto con l'aiuto del suo metal detector. La scimmia lo porta in uno sfasciacarrozze per venderlo. Il proprietario, un alligatore e suo figlio gettano subito Robot nel mucchio di vecchi rottami, dove viene rotto in diversi pezzi e spento. Quando finalmente arriva il primo giugno, Dog torna alla spiaggia ma riesce a trovare solo la gamba mozzata di Robot. Viene cacciato dalla spiaggia dopo aver trascorso l'intera giornata a scavare. Dog, rattristato, passa la notte a letto con la gamba di Robot e le foto ricordo che si erano scattati insieme. Un procione di nome Rascal visita la discarica qualche tempo dopo e scopre la testa e gli arti rimanenti di Robot. Porta a casa quei pezzi e, assecondando il suo interesse a costruire un Robot per conto proprio, ricompone Robot con una radio gigante come nuovo corpo. Robot si riaccende, apparentemente senza ricordare il periodo trascorso con Dog. Nel frattempo, Dog va in un negozio di Robot e compra un nuovo amico di nome Tin. Nel corso dell'estate, Robot e Rascal stringono una forte amicizia, così come Dog e Tin. Questi ultimi vanno in spiaggia e, avendo imparato dagli errori del passato, Dog ricopre Tin con uno spray all'olio e lo tiene lontano dall'acqua. Più tardi, mentre prende del ketchup per un pranzo sul tetto con Rascal, Robot si affaccia e vede Dog e Tin camminare sul marciapiede. Robot riacquista tutti i ricordi del periodo trascorso con lui. Uscendo di corsa dall'edificio e scendendo in strada, Robot riesce a raggiungere Dog e a ricongiungersi con lui. L'improvvisa apparizione di Rascal rivela che il ricongiungimento era un'altra fantasia di Robot. Invece di inseguire Dog, Robot usa il suo corpo radiofonico per riprodurre September. Dog sente l'eco della canzone e i due, all'insaputa di Dog, ballano insieme per un'ultima volta. Dog vede il riflesso di Robot in una finestra e quest'ultimo si nasconde prontamente. Robot medita di rivelarsi, tuttavia rendendosi conto che lui e Dog hanno trovato nuove relazioni significative dopo la loro separazione. Robot continua a nascondersi e lascia che Dog prosegua con Tin. Il nuovo Robot si accorge della tristezza di Dog e lo rincuora subito. I due ballano fianco a fianco lungo la strada. Robot torna poi da Rascal e i due ballano insieme sul tetto.